Buongiorno Daedo, oggi 23 novembre, al momento non ci sono breaking news, non ci sono altri sviluppi nella vicenda OpenAI che abbiamo seguito in questi giorni, almeno adesso, visto come si è evoluta la faccenda potrebbe venire fuori di tutto in questi minuti, però al momento non ci sono grandi cose, però ho comunque una piccola cosa frizzantina da riportare, che è un articolo uscito in esclusiva su Reuters, che racconta quello che potrebbe essere l'elemento che ha scatenato tutto questo casino. Poi, insomma, lo vediamo, però prima di entrare proprio nel concreto con questa news, volevo un po' raccontare, anzi raccontare, volevo dire due parole su Samuel Altman, su Sam Altman, appunto, uno dei fondatori di OpenAI, assieme a Elon Musk, assieme a Greg Brockman e a Peter Thiel, anche che era un co-founder di Paypal, e poi anche a soldi di Microsoft e Amazon Web Services. Insomma, Sam Altman in questi giorni da molti giornali, lo vedo trattare un po' da molti giornali, non proprio tecnici, ma generalisti, diciamo, come quasi uno scienziato, qualcuno, una personalità che ha fatto avanzare l'AI tecnicamente al livello che conosciamo oggi. E quindi mi sono domandato se davvero tutti conoscano chi è Sam Altman, che figura è, che cosa fa nella vita, che cosa ha fatto, che cosa ha studiato, perché Sam Altman non è effettivamente, non è un tecnico puro, non è un ricercatore, non ha mai fatto niente per contribuire proprio a livello scientifico all'avanzamento dell'AI. Certo, l'ha fatta contribuire a livello economico, finanziario, quello sicuramente è un imprenditore, però non è un tecnico, ecco. Nel manipolo di persone che ho citato prima, che ha fondato OpenAI, l'unico mediamente tecnico, mezzo tecnico, era probabilmente Greg Brockman, che era CTO in Stripe, mentre Sam Altman veniva dal board di Y Combinator, che è un acceleratore di startup americano molto grande, molto famoso, molto importante, è quello da cui sono usciti Airbnb, Dropbox, Stripe stessa, Reddit naturalmente. Sam Altman è quella persona lì, cioè un imprenditore, certo, ha fatto un anno a Stanford in informatica, poi è uscito e basta, insomma, non ha mai contribuito particolarmente alla storia della scienza. Tra l'altro una curiosità su Altman, è un prepper, sapete che cos'è un prepper? I prepper sono quelli che si preparano, appunto, a potenziali catastrofi, guerre atomiche, nucleari, fine del mondo, all'apocalisse, praticamente, cioè lui ha collezioni di... cioè ha il bunker con collezioni di armi, maschere antigas, cibo in scatola, liquidi, insomma tutto quello che gli può servire per, ecco, sopravvivere per anni in un inverno nucleare. Adesso la butto in cacciara, ma fondamentalmente il prepper è questo, no? Se in qualche, magari, serie tv o videogioco avrete visto questa figura. Sam Altman è un prepper, insomma, ha questo tipo di passione. Insomma, volevo solo, ecco, ricordare, per chi non lo sapesse, o magari informare chi conosce poco la sua storia, che, appunto, Sam Altman non è un tecnico, uno scienziato, un informatico. Non possiamo definirlo un informatico, sicuramente possiamo definirlo un imprenditore, uno che probabilmente ci ha visto giusto, ha visto, quando ha creato OpenAI, ha visto dove si stavano muovendo i soldi e dove andare a richiamarli, quindi è entrato in questa avventura, in cui poi è stato in grado, questo bisogna riconoscere a lui e a tutto il manipolo di fondatore di OpenAI, di richiamare ricercatori e tecnici e scienziati e informatici. Quelli, invece, sì, davvero, davvero interessanti, davvero potenti, tra cui quello che poi ha scatenato tutto questo casino, a quanto si sa, o comunque uno di quelli che ha più spinto verso la fuoriuscita di Altman, che è, appunto, dicevamo, Ilia Susskever. E Susskever, lui, sì, che qualcosa di molto buono l'ha fatto, lui è ricercatore, lui, tra l'altro, ha lavorato con Geoffrey Hinton, che è un altro mega luminare del mondo AI, è un russo, ha fatto, ha un laurea in matematica, ha un master in informatica, ha un dottorato in filosofia, insomma, è qualcuno che in questo campo qualcosa sa. Peraltro è stato insignito del titolo, dell'award, del titolo di Fellowship della Royal Society. Se conoscete, la Royal Society è quella, insomma, quell'associazione, quell'organizzazione, quell'ente nel Regno Unito che, appunto, premia e raccoglie a sé grandi scienziati, grandi uomini che hanno contribuito, ecco, all'avanzamento della scienza. Quindi, insomma, la parte davvero tecnica, la parte che davvero avanza l'informatica e la computer science sta in Susskever e nei ricercatori di OpenAI. La parte, invece, manageriale, imprenditoriale, quella che attira investimenti e poi decide come spenderli è, invece, Sam Altman e Greg Brockman. Quindi, quando andiamo a vedere gli spostamenti e le dichiarazioni di questi gruppi, teniamo sempre a mente, secondo me è importante, che una parte è tecnica, l'altra parte, invece, è finanziaria, manageriale e economica. Cosa vuol dire questo? Non è per dire che questo abbia un significato, ma, insomma, che vale la pena ricordarlo e non mischiare queste due cose. Ecco, basta, volevo solo dire questo, ma adesso delle news che cerco di mantenere, insomma, così, un pochino stringate. Allora, sì, come dicevo, la news, in particolare di oggi, è quella che è uscita in esclusiva su Reuters e parla di, insomma, di una possibile motivazione a questo casino. Vado un po' a leggerlo, perché è abbastanza interessante tutto l'articolo che trovate, appunto, su Reuters. Si chiama, esclusiva, si titolo così, esclusiva, ricercatori OpenAI hanno, appunto, messo in guardia il board su una scoperta sensazionale nell'AI prima di far fuori il CEO. Questo per delle fonti interne OpenAI che hanno parlato poi con Reuters. Allora, dice l'articolo, prima dell'esilio di quattro giorni, così lo chiama, disse Maltman da OpenAI, alcuni ricercatori avevano scritto una lettera al board of directors, mettendoli in guardia su una potentissima scoperta nell'intelligenza artificiale che, dicevano, avrebbe messo in pericolo l'umanità. Questa è la fonte interna. Quindi, la lettera che non è stata menzionata in precedenza, parlava di un algoritmo AI che, con degli sviluppi molto importanti, ecco, che sarebbe stata condivisa con il board, prima appunto, di questa decisione. E queste fonti, appunto, citano la lettera come un fattore insieme a un'altra lista di problemi, appunto, che hanno poi portato al licenziamento di Altman, tra i quali c'erano le preoccupazioni sulla commercializzazione di questi avanzamenti tecnologici, prima di aver capito le reali conseguenze. Ma questa lettera non è in possesso di Reuters. Reuters non ha avuto la possibilità di guardare questa lettera. OpenAI non ha commentato ufficialmente questa vicenda, però ha riconosciuto che c'è stato un messaggio che è circolato internamente con un progetto chiamato QSTAR. E una lettera al board che è arrivata prima degli eventi, appunto, di venerdì. E un portavoce di OpenAI ha detto che questo messaggio era stato mandato dal CTO Mira Murati, però non ha commentato, diciamo, l'accuratezza di queste voci. Qualcuno in OpenAI crede che QSTAR possa essere una scoperta proprio sensazionale negli avanzamenti, appunto, della ricerca della startup, per quello che è conosciuto come AG, quindi l'Artificial General Intelligence, che è praticamente un sistema che dovrebbe avere la capacità di superare gli esseri umani, nella capacità degli esseri umani, in molti task che sono economicamente rilevanti. Una descrizione possibile di questi task è che, dato un grande ammontare di potenza computazionale, questo nuovo modello sarebbe in grado di risolvere alcuni problemi matematici. Quindi, anche se questo sistema è in grado di risolvere problemi matematici a livello basso, cioè soltanto problemi di livello scolastico, ecco, però questa singola scoperta può costituire un avanzamento enorme e rendere molto ottimisti i suoi ricercatori delle possibilità di questo QSTAR, anche se anche qua Reuters non è stato in grado di verificare le capacità di questo fantomatico modello. E c'è poi una spiegazione sul perché questo sia interessante, perché i ricercatori considerano, pensano che la matematica sia proprio la prossima frontiera dello sviluppo dell'AI, perché attualmente l'AI generativa è brava a scrivere e a fare traduzioni delle lingue, proprio del linguaggio scritto, perché riesce a prevedere statisticamente la prossima parola. Questo sappiamo come funzionano i modelli, no? E quindi una risposta alla stessa domanda può variare, perché sono previsioni statistiche, ma riuscire a risolvere problemi matematici dove la risposta giusta è una soltanto, ecco, questo implica che si avanzi incredibilmente la capacità dell'AI rispetto invece all'intelligenza umana, e questo potrebbe essere applicato a nuove ricerche scientifiche, per esempio. E in questa lettera al board i ricercatori avrebbero proprio messo in evidenza i pericoli, i potenziali appunto danni che questa scoperta potrebbe portare all'umanità, anche se non si sa esattamente quali sono stati evidenziati, però si sta ancora nel, diciamo, nel reame dell'ipotetico, no? Non si sa ancora perfettamente, però pare che sia in questo intorno. E inoltre i ricercatori hanno parlato di un lavoro di un fantomatico team di AI Scientist. È un gruppo formato combinando dei team di CodeGen e MatGen, quindi quelli che si occupavano della generazione di codice e invece quelli che si occupavano della generazione di risposta a problemi matematici, ecco. E quindi questo team, lo scopo di questo team era cercare di capire come ottimizzare i modelli AI esistenti migliorando la loro capacità di ragionare fondamentalmente, cioè di risolvere problemi scientifici. Questo è un po' quello che è venuto fuori, questo è quello che si trova qua su questo articolo di Reuters. Non lo so, sono voci non confermate, nel senso che ci sono sorgenti anonimi, questa lettera non si è vista, l'esistenza di questo fantomatico Q-star non è stata confermata, quindi io ve la butto lì, poi va alla fine un po' a confermare quello che si era già detto, che c'erano delle preoccupazioni che sono aumentate in qualche modo negli ultimi tempi e abbastanza rapidamente rispetto a qualche avanzamento tecnologico probabilmente che voleva essere commercializzato troppo in fretta da Altman. Quindi questo potrebbe confermare. Poi, se usciranno informazioni maggiori su questo fantomatico Q-star e su questa lettera al board, insomma, le riporteremo. Intanto l'abbiamo buttata lì. Seconda e ultima news per oggi, che perché oggi è l'ultima puntata della settimana, segnatevi anche questa cosa qua, domani non ci sarò, poi vi dirò perché. Qui invece parlo di una cosetta simpatica, non simpatica per niente. Non simpatica di certo per la persona coinvolta, che è il CEO, anzi ormai ex CEO di Binance. Chi è familiare con il mercato delle criptovalute conoscerà sicuramente Binance, perché è praticamente il più grande mercato delle cripto al mondo online. Ebbene, quello che era il CEO di Binance, che si chiama Changpeng Zhao, che è anche fondatore di Binance, l'ha fondata nel 2017, ecco, fa un passo indietro, così come si dice in inglese in questi casi. Insomma, non è più CEO di Binance. Questa volta non tornerà nei prossimi quattro giorni, perché è coinvolto in una faccenda legale abbastanza grave. Allora, questo articolo, sono su PC Gamer, l'articolo di PC Gamer si intitola Another One Bites the Dust, perché PC Gamer fa sempre di titoli molto interessanti, insomma, parla della vicenda di Binance. Allora, dice, Binance è il più grande mercato di scambio di criptovalute al mondo e era sotto investigazione dalle autorità degli Stati Uniti per anni sui sospetti che ci fosse del riciclaggio di denaro. E quindi adesso ha annunciato che il suo CEO e fondatore Changpeng Zhao si dimette, si dimette dal suo ruolo e si dichiara colpevole di, appunto, di questa accusa di riciclaggio di denaro verso l'ente regolatore degli Stati Uniti. E, contemporaneamente, Binance stessa si dichiara colpevole e raggiunge un accordo con, appunto, i legislatori con una cifra importante di 4,3 miliardi di dollari. Quindi pensate a quanto denaro circola in questo mercato, quantomeno in questo exchange. Allora, dice un portavoce del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Binance ha permesso quasi 900 milioni di dollari di transazioni tra utenti negli Stati Uniti e utenti in Iran e ha anche facilitato transazioni per milioni di dollari tra utenti statunitensi e utenti in Siria e nelle regioni ucraine occupate dalla Russia della Crimea, del Donetsk e del Luhansk. Questo, tra l'altro, mette anche un po' in luce come possono avvenire grossi movimenti di denari tra queste regioni che poi hanno portato a guerre, a movimenti terroristici. Ecco, come fa il denaro a muoversi, così tanto denaro a muoversi, che poi consente naturalmente di muovere, di acquistare armamenti, eccetera? Come fa tanto denaro a muoversi in queste zone quando tutto è regolamentato, gli scambi mondiali sono regolamentati? Ecco, questa è un'indicazione, potrebbe essere, la butto lì, potrebbe essere un'indicazione di come questo denaro si muove, grazie comunque, care Crypto. Dice, è impossibile non vedere questo nel contesto del processo che si è concluso recentemente a Sam Bankman-Fried. Vi ricordate, ne avevamo parlato qualche settimana fa, quindi l'ex CEO di FTX, che è stato trovato colpevole di frode, dopo il megacollasso di FTX dell'anno scorso, e adesso rischia anni e anni, anzi decenni, in prigione. Tra l'altro, ironicamente, riporta anche l'articolo, la valutazione di Binance era molto cresciuta dopo il collasso di FTX, che naturalmente era il suo più grande competitor. Allora, Zhao ha poi annunciato che il nuovo CEO di Binance è Richard Tang, e ha detto che pensa di prendere una pausa. Prende una pausa, perché naturalmente, insomma, questa cosa l'ha un po' provato, psicologicamente, e ha anche fatto notare che questo accordo che c'è tra loro, tra Binance e le agenzie degli Stati Uniti, però non rivelano alcun uso non appropriato di fondi degli utenti, e quindi non c'è nessuna manipolazione del mercato di cui Binance possa essere totalmente colpevole. Grazie, signor Zhao, ma non era questa l'accusa, l'accusa è di riciclaggio di denaro. Si è dimenticato di menzionare questa parolina nelle tue dichiarazioni. Va bene. Quindi, questa multona, ecco, arriva dopo una causa che è stata portata avanti da anni dalla Commodity Futures Trading Commission, quindi CFTC, che, insomma, aveva anche accusato Binance di non prevenire, di non cercare di prevenire in nessun modo l'uso da parte dei gruppi terroristici, ecco, di movimenti finanziari e di riciclaggio di denaro. E poi aveva permesso a cittadini degli Stati Uniti di investire in prodotti finanziari che possono essere scambiati sul territorio statunitense soltanto su piattaforme regolamentate. Ed ecco perché, probabilmente, Binance non si è mai registrata come piattaforma negli Stati Uniti. Quindi, la multa, diciamo, l'accordo da 4,3 miliardi di dollari, ecco, va a coprire questo tipo di accuse, questo quadro accusatorio. Ce n'è una che rimane, ma ancora non è partito, diciamo, il processo in questo, quindi poi ne parleremo più avanti, che riguarda invece un problema tra Binance e la Security and Exchange Commission, la SEC. Quindi poi, insomma, lo vedremo più avanti. Quindi, questo, al fine, questo accordo vedrà Zao mantenere, diciamo, la maggioranza, ecco, in Binance, ma non avrà una posizione di leadership perché, appunto, ha lasciato il suo ruolo, ma, naturalmente, rischia anche, nel suo caso, anni di prigione. Infatti, poi, riporta l'articolo in conclusione, in un caso simile che riguardava un altro exchange di cripto che si chiama BitMEX, che, fondamentalmente, per queste stesse accuse si era dichiarato colpevole e aveva raggiunto un accordo, ecco, l'ex CEO di questa compagnia, Arthur Hayes, è stato poi imprigionato, fondamentalmente, la sentenza è stata di due anni di prigione. Prima di lasciarci un'ultimissima cosa, vi segnalo una nuova iniziativa di GitHub che si chiama For Good First Issues, la trovate sul blog di GitHub ed è fondamentalmente un modo per tutti quelli che hanno voglia di contribuire all'open source ma non sanno bene da dove iniziare e magari vorrebbero anche provare a contribuire in qualche progetto che poi porti davvero del bene all'umanità. Lo stiamo menzionando un po' troppo in questi giorni il bene dell'umanità. Vabbè, comunque ci sono effettivamente dei progetti non profit che stanno su GitHub perché GitHub è il posto dove c'è l'open source e molti progetti non profit sono anche progetti open source ebbene per tutte queste persone esiste un posto adesso su GitHub che si chiama appunto For Good First Issue dove potete trovare una lista di progetti non profit open source a cui potete contribuire con appunto delle issue fatte apposta per iniziare a contribuire. sono progetti tra l'altro che sono riconosciuti come Digital Public Goods di DPG e sono insomma progetti che sono software open source open data open AI qui open AI veramente non l'open finto di open AI ecco e poi open content che supportano la United Nations Sustainable Development Goals di SDG che è una collezione di obiettivi di di goal ecco linkate tra di loro che servono diciamo a un a un obiettivo comune di pace e prosperità per le persone ecco per il pianeta adesso e nel futuro quindi per essere riconosciuto come DPG c'è una serie di 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 metriche da rispettare per per essere appunto riconosciuto in questo in questo modo il sito è forgoodfirstissue.github.com c'è un form con un piccolo motore di ricerca dove ci sono listati di tutti questi progetti potete andare a filtrare per linguaggio tipo se volete contribuire in javascript ecco vi da i progetti che consentono di contribuire a javascript se volete contribuire in html anche questo se vi sentite più confidenti con questo oppure potete filtrare appunto per per punto dell'sdg cioè per area tematica di sdg quindi per esempio la povertà la l'educazione l'innovazione dell'industria quindi per esempio se volessi puntare su pace giustizia e le istituzioni ecco posso filtrare mi da tre progetti che rispettano questo requisito quindi posso poi andare sul sul repo di questi progetti e provare a contribuire quindi ecco un bel punto di partenza per chi vuole essenziale in questo campo mi pare è un'iniziativa comunque interessante allora la chiudo qui grazie per avermi seguito e prima di lasciarvi vi dicevo che questa è l'ultima puntata della settimana sì perché domani sono a Verona in questo evento qua che adesso non si vede perché è coperto dal microfono ecco grazie a tutti quelli che mi seguono in podcast questo è Angular Day quindi domani c'è Angular Day a Verona Angular Day è organizzato da Grusp è ovviamente un evento su Angular l'avevate intuito probabilmente dal nome sarò sul palco a fare l'MC quindi introdurrò e saluterò i vari speaker che si alterneranno sul palco di Verona tra gli speaker mi permetto di fare un grandissimo in bocca al lupo a Daniela Bonvini che è mia collega in Spar Fabric che per la prima volta sale sul palco in una conferenza come questa e quindi sarà un po' agitata ma andrà alla grandissima Daniela quindi per tutti quelli che sono domani a Verona ci vediamo lì per chi invece non c'è se vi interessa Angular comunque seguite Grusp e questo evento poi ricondividerà i video dei talk fra qualche mese e per tutti gli altri invece noi direi che ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo buongiornissimo ciao